Con me ho Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle, altra opposizione dura, un discorso di Renzi che però è sembrato chiaro, si fanno le cose o si torna al voto? È sembrato chiaro, dipende dai punti di vista, perché un programma dei mille giorni va anche spiegato. Tu mi devi dire come metterai in piedi determinate cose, se no è inutile che vieni qua in aula a parlare. E vieni e ci spieghi come risolverai i problemi degli incapienti. Non l'ha detto, ha detto che voleva risolvere i problemi degli incapienti, come l'ha risolto fino ad ora? Dando 80 euro a chi non è incapiente, a chi un reddito già ce l'ha. Ha parlato veramente di... io per una volta nella vita, da quando sono qua, mi trovo completamente d'accordo con Brunetta. Ha detto cose molto chiare sul lavoro e ha chiesto anche... Sul lavoro, la ringrazio per l'assist, sul lavoro ancora non abbiamo niente. Probabilmente lui farà una delega fiscale per calmare l'opinione pubblica. E all'interno della delega fiscale si terrà ampi margini in modo tale poi da poter intervenire nei decreti legislativi. Che come sapete bene escludono completamente il Parlamento. Quindi quando ci sarà attenzione, luce sul provvedimento della delega sul lavoro, lui farà finta di niente. Poi successivamente invece col decreto legislativo toccherà l'articolo 18. Grazie Alessio Villarosa. Poi c'è la reazione di Forza Italia che dice quella di Renzi è soltanto apologia di se stesso. E poi però i malumori anche nella minoranza del Partito Democratico, soprattutto su giustizia e lavoro. Appunto, ascoltiamo.